Tutto ora tace in via Andrea Doria, i cassonetti sono in sereno quanto confortante e ordine come ogni giorno. Decisamente diversi lineamenti della via del quartiere Savalle, ieri notte. La strada è interamente bloccata dai bidoni della differenziata buttati ovunque. A stravolgere la quiete notturna ci ha pensato infatti la furia folle di un ragazzo italiano di 25 anni. Improbabile stato di alterazione fisica, il giovane sparito da casa la mattina ha iniziato a staccare alcune pietre dal piccolo ponte che troneggia lì vicino. Le forze dell'ordine intervenute si sono trovate davanti a una scena dai contorni assurdi. Ma la situazione è peggiorata quando il ragazzo ha sollevato un masso di quasi una quindicina di chili e ha tentato di scagliarlo addosso ai carabinieri. I militari sono riusciti a immobilizzarlo e l'hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento di opere pubbliche. La madre del giovane che ne aveva denunciato la scomparsa è stata avvisata dai carabinieri. La strada resa inagibile e dalle controverse gesta del 25enne è stata ripulita da Amia. Stamattina in tribunale il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la traduzione in carcere fino al mese prossimo in attesa della perizia psichiatrica.